Sono meno di ieri ma comunque tanti contagi giornalieri nelle Marche, pari a 230 nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono così suddivisi, 92 in provincia di Ancona, 45 in quella di Macerata, 38 nel Piceno, 32 nel Fermano, 15 in provincia di Pesaro Urbino e 8 da fuori regione. Diminuisce rispetto a ieri l'indice di positività, ora al 10,9%, calcolato sulla base dei 3.773 tamponi analizzati, mentre il tasso di incidenza accumulativo su 100.000 abitanti sale a 88,11, ben oltre il limite di 50 per la zona bianca. Buone notizie al momento invece per i ricoveri, in tutto sono 91, due in meno rispetto a ieri, 21 di questi in terapia intensiva, con i dimessi nell'ultima giornata che sono stati sei. A proposito di colori, le Marche insieme a Friuli Venezia Giulia, provincia di Bolzano e Calabria virano a rosso nella mappa aggiornata sull'incidenza Covid in Europa, curata dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. In rosso si trovano le regioni che negli ultimi 14 giorni hanno fatto registrare tra i 50 e i 150 casi e un tasso di positività inferiore al 4%. Un colore che però ha nulla a che vedere con quelli assegnati dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, anche se per le Marche due parametri su tre hanno già superato i limiti previsti per far scattare la zona gialla. Ciò è comunque sintomo di un netto peggioramento nelle ultime due settimane che il Presidente della Regione Acquaroli commenta così. La preoccupazione è la preoccupazione che tutti noi leggiamo guardando i dati dell'Italia e dell'Europa. È una preoccupazione che c'è anche in virtù delle stagioni passate. Quindi io tendo a non voler sottovalutare nulla, cerco di vedere oggettivamente l'annamento del numero dei positivi e l'impatto del numero dei positivi sulle strutture ospedaliere. La crescita delle terapie intensive, la crescita dell'area medica, ma tengo anche sotto stretta osservazione la crescita del numero dei positivi vaccinati rispetto a quelli non vaccinati. Nelle ultime 24 ore si conta poi un'altra vittima. Si tratta di un 80enne di Pesaro che aveva patologie pregresse in tutto dall'inizio della pandemia. Sono state 3.119 le vittime del Covid nelle Marche.